Grave incidente sul lavoro a Borgoricco, dove un uomo di 56 anni è rimasto seriamente ferito alla gamba. All'interno di un'azienda specializzata nella produzione di materie plastiche, il dipendente di una ditta di impianti elettrici stava lavorando all'impianto di allarme, quando improvvisamente è stato investito da un carrello elevatore, in quel momento guidato da un coetaneo che lavora nell'azienda. Resisi subito conto della gravità dell'infortunio, i colleghi hanno allertato il 118 e assistito il ferito fino all'arrivo dei sanitari. Che hanno trasportato il 56enne all'ospedale di Campo San Piero, dove gli è stata diagnosticata la frattura esposta della gamba in due punti. Immediatamente l'uomo è stato sottoposto a intervento chirurgico nel reparto di ortopedia. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita. Nell'azienda uomini dello Spisal di Campo San Piero, per accertare la dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità.